Il bacon è un tipo di carne affumicata o stagionata, solitamente fatta con carne di maiale, anche se può essere realizzata anche con carne di tacchino o altre carni. La parte più comune del maiale utilizzata per il bacon è il ventre, ed è composta principalmente da strati di grasso e carne. Il bacon è noto per il suo sapore ricco e affumicato, nonché per la sua consistenza croccante una volta cucinato. Il bacon viene prodotto attraverso un processo di stagionatura, affumicatura o essiccazione della carne. Durante il processo, la carne può essere trattata con sali, zuccheri e spezie per migliorare il sapore e preservarla. Esistono diverse varianti di bacon, tra cui il bacon affumicato, il bacon canadese, realizzato con il lombo di maiale, e il bacon di tacchino, realizzato con carne di tacchino. Il bacon è un ingrediente molto versatile in cucina. Può essere cucinato in padella, al forno o persino nel microonde. La sua consistenza croccante lo rende ideale per l'uso in insalate, sandwich, uova alla coque, e molto altro. Il bacon è apprezzato in molte cucine del mondo e è spesso utilizzato come ingrediente principale o aggiuntivo per migliorare il sapore di vari piatti. Il bacon è spesso associato a una dieta ricca di grassi e sodio, il che può essere problematico per la salute cardiovascolare se consumato in eccesso. Tuttavia, in moderazione, può essere parte di una dieta equilibrata. Negli ultimi anni, sono emerse varianti di bacon vegano realizzate con ingredienti a base vegetale, per soddisfare le esigenze di coloro che seguono diete vegetariane o vegane. In generale, il bacon è amato per il suo sapore distintivo e la sua versatilità in cucina, sebbene sia importante consumarlo con moderazione, tenendo conto delle considerazioni sulla salute.